Sono cento le famiglie che abbiano sotto il viadotto ritiro e che dovranno lasciare le proprie case per due anni. Non lo sapevano fin quando non hanno ricevuto la lettera del Consorzio Autostrade Siciliane che comunica loro la data prevista per lasciare le abitazioni. Il prossimo 19 settembre dovrebbe avvenire il piccolo esido anche se molti dei residenti non hanno ancora ricevuto alcuna missiva. A me è arrivata solo la prima comunicazione che ci avvisava che avremmo dovuto lasciare la casa e rinviava un'altra comunicazione che avrebbe indicato tempi e modalità, spiega uno dei residenti. Ma a quanto pare non si tratta più di 15 giorni, come inizialmente era stato detto loro. Due anni sono troppi, spiegano. Chi invece ha ricevuto la lettera non è in molti casi soddisfatto del contributo economico che il CAS è pronto a versare. Ci siamo già rivolti a un legale. Oltre un milione e mezzo di euro è la somma che il CAS spenderà per le cento famiglie che nei prossimi 24 mesi dovranno trovare un alloggio diverso. Avrebbero fatto prima a consegnarci un indennizzo, spiega uno dei residenti la cui abitazione si trova proprio sotto l'impalcato. Avremmo lasciato le case anche perché comunque abbiamo un viadotto che ci passa sopra la testa. E sotto la tangenziale che porta agli svincoli giostra annunziata ci sono anche delle attività commerciali e anche in questo caso c'è chi non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione ma ritiene impensabile un'interruzione di 24 mesi. Inizialmente era stato previsto che i residenti avrebbero dovuto lasciare le loro case per quattro volte con sgomberi di due o tre mesi ciascuno. Adesso in molti temono che i tempi non saranno rispettati per un'opera di messa in sicurezza che costerà al CAS ben 43 milioni di euro.